Essere anziani al tempo del Covid nella nuova puntata di Pronto Medicina Facile in studio. Ospite della trasmissione curata e condotta da Paolo Cassignani, la dottoressa Rosa Scurti, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Geriatria dell'Asra di Pescara, che ha risposto alle tante domande dei telespettatori raccolte dalla collega Giglio Aledmundo. Tra i temi affrontati come gestire al meglio queste persone fragili a forte rischio contagio, sia a casa che in ospedale, nella RSA e come rapportarsi con la vaccinazione anti-Covid. Come la chiudiamo questa trasmissione, dottoressa? Che consigli diamo ai nostri telespettatori? Guardi, io dicevo prima che non tutti gli anziani tendono ad autolimitare, ad auto isolarsi e quindi a rinchiudersi in se stessi. Molti sono resilienti e io auspico che gli anziani possano avere questa capacità di resistere a questo virus che prima o poi cederà e cercare di mantenersi impegnati, attivi e sereni e vaccinati.